Come va Tom? Tutto a posto Giulia, e tu? Stanca, ma bene, grazie. Sai che ore sono? Sì, c'è lì l'orologio, sono le 19.30. Perfetto, la mia amica sta per arrivare. Eccola! Bene, non vedo l'ora di conoscerla. Ciao ragazzi! Ciao Angela, ti presento Tom. Piacere di conoscerti Angela. Piacere mio, Tom. Angela ora vive con me e con Rita. Sì, nel bellissimo appartamento a Piazza San Cosimato. Sei fortunata, è molto bello. Eh sì, lo so. Ci prendiamo un aperitivo? Che dite? Sì, certo, io lo prendo a buffet. Anch'io. Buongiorno ragazzi, che prendete? Per me una birra artigianale bianca. Per me uno spritz. E per me un bicchiere di Shirà. Sai Tom, anche Angela studia architettura. Ma dai, fico! Dove? Alla Sapienza. Sono al primo anno, e tu? Io sono a Roma 3 e sono al terzo anno. Pensa, Angela parla cinque lingue. Non è pazzesco? Incredibile! Quali? Beh, mamma è francese, papà spagnolo, vivo in Italia e parlo italiano. Parlo inglese e ora studio cinese. Adoro le lingue. Io parlo solo italiano e poco inglese. Ecco da bere ragazzi, potrei servirvi da soli al buffet. Grazie mille. Angela, lo sai invece che Tom gioca a calcio benissimo? Beh dai, benissimo. Gioca abbastanza bene, mi piace molto. E a te? A me piace molto tutto lo sport, tranne il calcio. Ok, però a tutti e due piace molto leggere. Angela legge di tutto. Ah, perfetto. Allora, se ti va domani pomeriggio, ti porto nella mia libreria preferita e in giro per Roma. Domani purtroppo non posso, devo studiare con un amico. Tu puoi venerdì? Sì, sì, posso. Ti passo a prendere in moto dopo domani? Tom ha una moto meravigliosa. Beh, no, grazie. Ho paura della moto e dei motorini, soprattutto a Roma. Andiamo a piedi? Va bene, dai, vengo sotto casa vostra venerdì verso le 2.30. Ti citofono e scendi? Perfetto, grazie. Va bene, dai. Ora andiamo a prendere da mangiare al buffet. Ottimo, ho una fame.